È un piccolo paradiso terrestre, quasi sconosciuto al turismo di massa, ed è raggiungibile con poche ore di viaggio dall'Italia. Sir Maniyas è la più grande isola naturale degli Emirati Arabi Uniti e dista circa 250 chilometri dalla capitale Abu Dhabi. Un'isola praticamente deserta che si estende per 87 chilometri quadrati con spiagge bianche che affacciano su un mare cristallino. L'isola, che prende il nome dalla tribù Baniyas, ospita una riserva marina e una riserva naturale, volute dal fondatore degli Emirati Arabi Sheikh Zayed bin Sultan al-Nayan negli anni 70 per preservare le specie arabe in via di estinzione. E se sono solo pochissimi gli addetti ai lavori ad abitare nell'isola, infatti qui in semilibertà vivono oltre 10.000 mammiferi terrestri, giraffe e ghepardi, struzzi, pavoni, orici d'arabia, antilopi e gazzelle, ma anche in cielo si possono osservare aquile e falchi, il rapace simbolo degli Emirati Arabi. L'isola è praticamente un grande spazio riservato a loro. Per chi vuole visitarla sono infatti pochissime le opportunità di approdo. Si può raggiungerla in aereo per una vacanza in uno dei tre piccoli resort presenti sull'isola, oppure arrivare via mare per una escursione in giornata con le navi da crociera. Qui le possibilità di svago sono molte. Una vita da spiaggia sotto gli ombrelloni che affacciano su uno splendido mare, gite in mountain bike o in kayak tra le mangrovie, o ancora passeggiate oppure safari in fuoristrada alla scoperta della fauna locale. Da alcuni anni MSC Crociere fa tappa Sir Maniyas con la crociera negli Emirati Arabi. È una piacevole parentesi tra le visite nelle metropoli ultramoderne degli Emirati. Per un momento di relax ha stretto contatto con la natura, ha spiegato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere. Sono già 5-6 anni che attracchiamo sull'isola e il giorno del nostro attracco ci è concessa in maniera esclusiva. E devo dire che il livello di apprezzamento degli ospiti è molto molto elevato, anche perché con 4 ore e mezzo di volo dall'Italia si è in un paradiso balneare al pari dei Caraibi o delle Maldive. Continueremo a crescere su quest'isola, continueremo ad aumentare la nostra presenza, sicuri che gli ospiti italiani gradiscano questo tipo di destinazione.